E ritorniamo in onda alle 9 e 35 minuti. Io vi ricordo un appuntamento importante per la nostra radio che è l'appuntamento di sabato, la festa dei 35 anni di Radio Interland che si terrà proprio sabato alle ore 20 e 30 allo spazio Aurora di Rozzano. Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria. Ci saranno vari ospiti che ci aiuteranno ad allietare un po' questa serata. Tra gli ospiti ci sarà Eleonora Cupi, Roberta Bonanno e altri artisti a sorpresa. Noi vi aspettiamo tutti sabato prossimo alle ore 20 e 30 allo spazio Aurora. Ma noi allora torniamo ancora con i nostri ospiti di oggi, con Samantha che se vuole ci può dire ancora qualcos'altro. Come sono nati i restri in ascolto? I restri in ascolto sono nati nel 2007, anche se in realtà nascono nel 2005, da una mia idea diciamo prettamente lavorativa e per stima nei confronti di una grande artista. Nel 2007 abbiamo fatto la prima data con critiche, alcune costruttive alcune meno, dove si credeva che un progetto come il tributo a Laura Pausini non sarebbe mai andato da nessuna parte. E questo erano anche molti musicisti a sostenerlo, devo dire la verità. Noi ci abbiamo creduto, abbiamo fatto le cose bene fino in fondo, o comunque bene, mi auguro. Siamo partiti e abbiamo fatto delle belle cose, siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Dopo di noi poi, una volta diciamo tastato il terreno, una volta verificato che le cose funzionavano, poi sono arrivate di conseguenza altre band giustamente che fanno tributo a questa grande artista. Noi siamo molto onorati e felici di essere stati i primi a farlo in un certo modo e a farlo con tanta passione. Anche se ti dico la verità, da quest'anno stanno partendo anche tutta una serie di altri progetti collegati ai restri in ascolto, che vorrei prendessero una piega molto importante. Dimmi, dimmi, ho visto. So che voi i concerti che fate sono concerti per lo più benefici. Sì. Per gli amici di Anpassigava, che è un'associazione, se non mi ricordo male. Sì. E poi per l'Istituto Oncologico di Milano. Di Milano. Diciamo che i nostri concerti non sono prettamente benefici, sarei bugiarda, a sostenere questa cosa. Siamo comunque professionisti e lavoriamo tutti con la musica. Diciamo che i nostri concerti hanno anche un fine, per me è importante, chi suona, chi canta, chi fa musica ha una grossa responsabilità. Io arrivo da un'esperienza diretta di tumore, per quanto ora risolto. E diciamo che con i nostri concerti, quindi vendendo il merchandising e altre iniziative, cerchiamo di dare una mano a un'associazione in Madagascar, che è Amici di Anpassigava, e promuoviamo quella che è l'informazione per la prevenzione tumorale femminile in compagnia di Fondazioni EO, l'Istituto Europeo Oncologico di Milano e la Fondazione, organizzando degli eventi proprio a tema in questo senso, insomma. Ecco, se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse fare delle donazioni, a chi si può rivolgere? Per quel che riguarda le donazioni in modo particolare, mi sento di andare direttamente, di indirizzarli direttamente al sito di Amici di Anpassigava, che hanno, diciamo, il bisogno più impellente. Sono stata lì in Madagascar e so purtroppo bene di cosa sto parlando, ed è proprio amicidiampassilava.com. Lì trovate tutte le indicazioni per dar loro una mano. Sono un'associazione piccolissima, non ha accanto a sé grosse strutture o VIP particolarmente importanti che li appoggiano e possano pubblicizzarli. Noi nel nostro piccolo ci stiamo provando da qualche anno, andateli a trovare, perché meritano veramente. È un medico di Bologna in pensione che ha dedicato la sua vita ad aiutare questa popolazione che ne ha veramente, veramente bisogno. E per quanto riguarda invece l'Istituto Oncologico di Milano, c'è qualche riferimento? Guarda, io invito semplicemente ad andare eventualmente sul nostro sito per informarsi. L'Istituto Europeo Oncologico di Milano è chiaramente una struttura molto, molto forte e un punto di riferimento importante a livello mondiale per quel che riguarda il problema dell'oncologia. Per fare donazioni e per sostenere le fondazioni collegate a IEO, in realtà i mezzi sono tantissimi. Basta andare su internet e cercare fondazioni IEO, piuttosto che altre fondazioni collegate a questo istituto. Io quello che dico di base è informatevi, informatevi e fate prevenzione, perché non sono solo parole. Io con la prevenzione mi sono salvata la vita e grazie alla prevenzione ho partorito mio figlio due anni fa. Non è uno scherzo, insomma non giochiamo con la nostra salute. Perfetto, grazie, grazie. Questo era doveroso ed importante ricordarlo e dirlo ai nostri ascoltatori. 10, o meglio 9 e 40, io direi prima di salutarci, cara Samantha, ci fate ancora un regalo e ci fate ancora un altro pezzo live? Volentieri. Io voglio solo chiederti una piccola cortesia, perché è doveroso per me farlo. Assolutamente. Noi da quest'anno collaboriamo con delle nuove persone. Quest'anno per IEO è un anno di cambiamenti, cambiamenti a livello di spettacolo, musicali, ma anche proprio di staff. E oltre a ringraziare già tutti quelli che lavorano per noi, che sono tantissimi, vorrei ringraziare Luca della Macondo Spettacoli, perché da quest'anno abbiamo deciso di collaborare e ho trovato in lui, almeno per il momento, e credo che si riconfermerà la cosa, della grande onestà, della grande professionalità e in quest'ambito non è assolutamente facile. E poi Francesco Abba, che è la persona che si sta occupando invece di tutto quello che riguarda le date dei RIA, è diventato un po' il nostro nuovo organizer, così come ci piace definirlo. E invece un saluto di comiato a Sara Ferrari, che da quest'anno non collabora più con noi, ma che comunque rimane una grande amica, con la quale abbiamo lavorato insieme per tanti anni. Perfetto, cosa ci fate? Che pezzo ci fate? Facciamo un pezzettino di Vivimi, sempre alla topogigio naturalmente. Samantha Trovato con Vivimi. Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se puoi, credimi se puoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi, credimi perché, farei del male, solo ancora a me. Qui, tra le cose che ho, ho qualcosa di più io, che non ho avuto mai. Qui, hai bisogno di vivermi di più. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora. Non lasciare libero, disperso, questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi il senso, e ascolta quello che ho qui dentro. Complimenti davvero, veramente. Facciamo un applauso a tutti quanti, anche voi gli ascoltatori che siete a casa, fate un applauso a Samantha e a Tommy, perché sono veramente fantastici. Comunque, prima ho detto una gran castoneria, perché ho detto, non ho le 40, ma in realtà sono le 10. Cioè, un'ora dopo. Esatto, esatto, va bene, comunque, non fate caso, anche perché comunque l'emozione qua in studio è veramente tanta, è veramente tanta. Io non so come ringraziarmi. No, grazie a voi dell'ospitalità, sicuramente torneremo, e anzi ti anticipo che quando ci inviterai, se ci inviterai, sicuramente porteremo una sorpresina per i fan della Pausini. Quindi chi ha voglia magari di assistere... Anche un solo, nel senso che apprezza Laura e... Assolutamente. Diciamo che... Regaleremo un biglietto per uno dei concerti di Laura. Alla prossima ospitata qui in trasmissione. Ti faccio questa promessa. Va bene. Quindi... Molto, molto, molto volentieri. Stay tuned, no? Come si dice. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io veramente ringrazio, ringrazio di cuore Samantha, ringrazio di cuore Tommy per questa ospitata. Possiamo dire così, tornate il prima possibile perché è stato veramente fantastico oggi. Grazie mille, grazie a Thomas per essere venuto e per avermi accompagnato. Grazie Sammy, grazie Salvatore, è stato un piacere. Prego, prego. E noi andiamo con Adele.